Torniamo qua con la carriera giocatore con il nostro Aksuna Tiagi. Benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, allora, qua in India le cose si stanno facendo intriganti. Siamo al settimo posto e vabbè, però alla fin dei conti siamo a 10 punti, cioè gli stessi punti del quarto posto, mentre al primo diciamo che siamo a meno 8 ed è un pochino più complesso. Andiamo a farci l'allenamento pre-partita, intanto per incominciare. Purtroppo non aumentiamo di overall, rimaniamo ancora con il nostro bellissimo 56 overall potentissimo. Siamo contro i Blasters che sono quinti in classifica con lo stesso punteggio, quindi sarebbe fondamentale portarsela a casa. Sarebbe molto, molto fondamentale. Sperando che oggi non ci siano i soliti lanci lunghi e baggatissimi che, insomma, conosciamo molto bene. Allora, sì, ho capito. Possiamo andare avanti? Sì, va bene, grazie. Troppo gentili. Ok, no, ma perché? Ma perché? Mannaggia. Siamo già in difesa. Calma, calma, temporeggiamo. Bravissimo, delgado. E però la palla è rimasta lì. Mannaggia tutto. No, no, non farlo passare. Mamma mia, mamma mia che rischio. Niente, sono sempre loro in attacco e noi non stiamo facendo niente. È meraviglioso questo. È tutto meraviglioso. No. No, 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 no. No, no, no. Fuori gioco? Sì, lo accetto, lo accetto assolutamente. Occasione di cross per noi, finalmente, finalmente. E mo' che faccio? Puitea, guardalo. Benissimo. Jerry? No! Ce l'ha quasi arrivato. Oh, la palla è ancora nostra e però se questo qui non riesce a tenere un pallone, che ci posso fare? Cross lungo? No. No, no, vi scongiuro. Basta, basta, basta con sta roba. Mamma mia, che fortuna. E l'avevo ripassata. E l'avevo ripassata. Sosai. Sosai. Mamma mia. Velocissimo. Sosai, ancora lui. Guardalo. Guarda. No! No! È mancata la potenza. È mancata la potenza, mannaggia. Non era male, assolutamente no. Sempre loro in attacco. Non mi stupisco, ovviamente. Bravissimo Delgado. Il muro del... Rigore! Rigore! Eh no, aspetta, aspetta un secondo. Fammi tirare a me. Dove sei? Dove sei? Fatti vedere. E fatti vedere. Ah, sono qua. Sono qua, sono qua. Non mi ero visto. Tiagi. Tiagi. Tiagi! Rigore trasformato. E lo dice, ha in vantaggio col suo bomber di razza. Aksuna. Tiagi. Un bomber veramente, ma veramente, di razza. Molto bene. Molto bene. No, no. Come si vuole in solitaria, scusatemi. È il solito uno contro uno. Calma. Calma. No, non possiamo pareggiarla. Non si può. Non si può. Non si può, detto. Ma porca. Non ci credo. Ma non ci credo. Ma non ci credo. Mamma mia, che sfortuna tremenda. No, ma come? Contropiede ancora per loro. Ma come? Ma come? Ma no. Mannaggia. Un secondo, eh. No. Calma. Difesa, difesa. Delgado, no. Che sfortuna. La palla è comunque passata. Non si sa nemmeno come. No, no. Fuori gioco. Ok. Niente. Un pareggio onestamente che non porta niente né a loro né a noi. Quindi c'è proprio un pareggio inutile. Veramente un pareggio inutile, però, quantomeno abbiamo segnato. E vabbè, sì, è già una bella cosa. Però avrei preferito una vittoria, onestamente. Rimaniamo al sesto posto. Aumentiamo di una posizione. Però gli altri devono ancora giocare. Quindi non vuol dire nulla. Andiamo avanti. Intanto siamo al settimo posto. Siamo tornati dove eravamo prima. In poche parole. Ah. Ah. Si sale a 57. E mo' si inizia a sentire il profumo d'Europa proprio. Capirai. E vabbè. Allora, siamo contro l'East Bengal che sta quinto in classifica. E siamo un po' stanchi. Non so perché. Siamo stanchi. Siamo un po' cotti, ma va bene lo stesso. Dobbiamo giocare e portarci da casa in un qualche modo. Almeno 7 segna almeno un gol. Si può fare. Ma assolutamente sì. Non mi sembra così impossibile, dai. Si può fare. Calcio di posizione per noi. Ok. Passa la vicino. Perfetto. Si gira molto bene. Aksunda. No. No, cosa ha preso? Come rigore per loro? Ma come? Ma no. Ma cosa c'entra? Allora. Te lo paro. Mi butto a destra. Cosa cazzo faccio? Ma cosa cazzo faccio? Ho sbagliato il... Ho sbagliato l'analogico e mi sono spostato al posto di buttarmi. Vabbè che comunque mi buttavo a destra e comunque era gol, però. E' stato visibilmente brutto. Si parte male. Occasiona di cross. Non so da quale parte arrivi il cross, ma vabbè. Ma cos'è? Che culo. Puitea. Ma cos'è due volte? Ma cos... Aiuto. Ma io che ho fatto di male? Ma che ho fatto di male? No, ma... Ma vi siete... Vi siete ammazzate a vicenda. No. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che squadraccia. È dura, eh. È durissima. È durissima. Udice in attacco. Ah, ma ormai penso che... Oh. Ma perché quel difensore è così in basso? Ma perché non gliela è passata? Ma io ho spinto triangolo per il filtrante, ma... What the fuck? Non gliela è passata? Si è visto, mi sa, pure la potenza che è stata caricata, tra l'altro. Il coso della potenza si caricava. Quindi... Beh, io ho spinto, eh. Non è che non ho spinto. Vabbè. Partita molto... Molto... Molto così, perché... Già subire un rigore così... A freddo, veramente... Non è stata la loro migliore prestazione. È stato... Onestamente bruttina come cosa, eh. Cioè, non... Non è stato proprio la migliore introduzione che si potesse avere. E in più, dopo, vabbè... Passaggi non fatti. Gol subito. Eh, si fa dura. Si fa veramente dura. In campionato. Veramente, veramente molto dura. Io non so se riusciremo ad arrivare a meno quarti. Non ne ho idea. Ma sarà complesso. Nel frattempo, ci avviciniamo al 58 Doverall. Che comunque... Ora abbiamo la partita contro il... Moun Bagan. Squadra strafamosa. Che conosciamo tutti, ovviamente. Come fai a non conoscere sta squadra? Guarda qua. Siamo tutti casati. E vabbè. La partita che ha monopolizzato i giornali, i media, ma... Ma dove? In India, forse. Ma poi neanche. Ma poi neanche, cioè. È bella che la telecronica non cambia. Cioè, nel senso che... Che ci sia City, PSG o Odisha contro la squadra... Tutte stra-importanti queste partite. Niente, sto... Sto passaggio inguardabile. Cross lungo? Ci risiamo? Ebbè. Ebbè, certo che ci risiamo, eh. Ebbè. Oh, è sempre così. Ma è sempre così. Ma io non lo so, veramente. Ma io non lo so, ma... Cioè... Contropiede. Mi danno pure la possibilità di fare un contropiede. Però non c'è nessuno che si faccia vedere. Quindi, cioè, io non so... Cosa fare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Non si può giocare così. Moun Bagan in attacco. Ebbè. Stiamo facendo un po' di fatichina, eh. Onestamente, un po' di fatica si sta facendo. Quest'oggi. Bravissimo Jerry. Bravissimo Jerry. Ma... E niente. Noi non... Noi non si attacca, eh. Oggi non ci fanno attaccare, proprio. Cioè... C'è il divieto d'accesso. All'area degli avversari. Cos'è sto... Nessuno che ci va? Perché non mi dà il segnalino giusto? Sennò ci sarei già andato. No. Dammi contro... Contropiede. Contropiede. Asuna. Ancora lui. Ancora lui. Guarda lui. No, non lui. Non lui. Non lui. Che cosa c'entra? Ma porca miseria, porca. Cioè, veramente. Rigore. Rigorissimo. Rigorissimo. Ci piace. Ah, tiriamo noi? Tiriamo noi? Passaggio importante del match. Attenzione. Attenzione. Odisha. In vantaggio. Ed era quello che cercavamo e volevamo. Mamma mia, che fatica, oh. È dura. È durissima. È durissima qua. Qua in India è veramente dura. Odisha si invoia in solitaria. Oh. Oh. Solitaria, poi. È durissima. Eh, però... Mannaggia. Bellissimo. No, ma no. Ma no. Ma no. Ma no. Ma no. Ma no. Mannaggia. Era buono. Era buono. Attenzione. Avversari. Spazza la via. Ma porca miseria. Ma man... Ma manco... Io pensavo che... Mi... Mi desse... La palla conquistata. E invece niente. Vabbè. Bravo. Dammi il contropiede. No, eh. Arbitro che manda la squadra. Tre punti. Tre punti. Isperati. Ma tre punti arrivati. Oh. Lo sa. Cioè. Sti tre punti sono importanti. Come se non ci fosse un domani. Cioè. Tre punti fondamentali. La rincorsa. A questo campionato indiano. A questa partecipazione. Della Champions indiana. Non so come sarà. Però insomma. Ah. C'è lo scontro con la Goa. Col genere musicale. Molto bene. Molto bene. E... Si muove a tutto. Si va a 58. Comunque. Oh. Pian piano. Si fanno cose interessanti. A 58. Inizia a essere. Un over-order interessante. E... E... Sì. Qua. Stavo guardando ora. Goal all'incrocio. Sì. Sì. Vabbè. Poi ne parliamo. Chiaramente. Ne parliamo. Allora. Servono altri tre punti. Per andare avanti. Nel nostro processo positivo. Nella nostra striscia positiva. Ok. Se... Se virebbero tre punti. Sarebbero fondamentali. Vediamo se oggi riusciranno ad arrivare questi tre punti. Ci spero con tutto il cuore. Udice l'attacco. Si parte bene. Si parte bene. Allora. Devo ragionare. Aksuna. Eh però. Tre ore per girarsi. Caccio d'angolo. Calma. Calma. Chiama il secondo giocatore. E fatti vede. Ma fatti vede. Oh. Oh no. Oh. Oh. Sono da solo. Aksuna. Sei da solo. Sei da solo. Sei da solo. Aksuna. L'ha fatto. L'ha... Sei pure arrabbiato. Sei pure arrabbiato. Goa in attacco. Che cavolo però. No no no. Non possiamo. Non possiamo. Il sogno deve rimanere aperto. Acceso. Nei nostri menti. Nei nostri speranze. Non possiamo andarlo via. Bravissimo. Bravissimi. Bravissimi. Cross lungo dire. No. 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 Bravissimo. Puitea. Cos'è sta roba? Ma l'han persa la palla. L'han persa. Mezz'ora fa. Ma dai. C'è. E ruba sto pallone. E ruba. Cosa ha fatto? In realtà io volevo spazzarla via. Ha fatto la scivolata. L'ha passata. Benissimo. Apri tutto? Eh però qua. I passaggi sono da rivedere. Apri tutto. Hanniket. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Cosa ha preso? Ma cosa ha preso? Calcio d'angolo per Goa. Attenzione a Goa. Eh eh. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Ecco il triplice fischio. Vittoria e punti preziosi per la formazione di casa. Vittoria di misura che vale doppio per come è arrivata. Spesso queste partite... Ma che è successo? Ma il calcio d'angolo? Vabbè. A noi va benissimo. Per carità. Portiamo a casa tre punti. Però c'è un calcio d'angolo. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. È baggatissimo sto gioco. Ok. Ora c'è una pausa incredibile. Intanto gli scarpini che vanno ancora avanti. A sentirsi in sottofondo. No. Avete finito? Allora siamo qui. Non abbiamo ancora finito. Siamo quinto in classifica. Ma noi possiamo fare qualche attività? O... Cioè nel senso. Su sei giocatori del mese. Addirittura. Ringrazia i tifosi. Grazie mille per il supporto. Per tutto. Cosa possiamo comprare? Nada. Andiamo veramente poco. Mamma mia. No. Ma non posso andarmene via ora. Cioè non posso andarmene via ora. Non si può. Non si può. Non si può. Assolutamente no. C'è un campionato indiano da portare a casa. Non si può andar via. Non mi pare il momento giusto. Dai. Ci sono cose da fare molto importanti qua. Ebbè. Allora siamo contro la sesta in classifica. Noi siamo quinti al momento. Stiamo recuperando molti punti. Continuiamo così. Continuiamo così. che sarebbe bello. Sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello. Onestamente. Speriamo di potercela fare. Comunque è una squadra che sta crescendo pian piano. Questo Disha si sta rivelando intrigante. Ho un rigorino subito per iniziare quello che volevo. Molto bene. Grazie. Gentilissimi. Allora. Aksuna. Aksuna. Il cucchiaio. Il cucchiaio di Aksuna. Cosa fa? Cosa fa? Esulta. Cosa fai? Dove vai? Ma... Esulta. Niente. Fa fatica. Non ce la può fare. Manco lui ci crede, no? Deve aver fatto il cucchiaio. Dice. Come cucchiaio? Ma... Che stai di... Posso farlo? Contropiede. Bellissima sta palla. Anniket. Lento come la messa incantata. Bello che io provo a fare le skill con questi giocatori. Sono proprio un pagliaccio. E che skill vuoi che faccio? Ma che skill vuoi fare con questi giocatori? Stavolta ci vieni. Grazie. Gentilissimo. Gerry. No. Fuori gioco. Ma poi... Ma poi il tiro veramente inguardabile. Altro calcio d'angolo. Oggi... Giornata mondiale dei calci d'angolo su... Su FIFA. Cioè su EA Sports. Scusate. Sono ancora... Su EA Sports. Vabbè. IAFC. Avete capito? Questi nomi, no? Anni, anni di FIFA. Mo' me ne han cambiato. Non ci capisco più della fava. Ok. Ragioniamo, ragioniamo, ragioniamo. No, 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 non così. Non così. Non si ragiona così, dai. Non si ragiona così. Perché la PAA per loro? Eh, vabbè. Calma. Bravissimo. Eh, però... Mannaggia, l'avevo presa io. Oh, ma niente. Non riesco... Mannaggia, oh. E' fatta la cavà. Cosa fanno? Bravissimo. Contropiede. Contropiede. Ah, Nick, che... Oh, guarda, Tiagi. Tiagi. Contropiedissimo. Aksuna. Aksuna. Sì. La chiude, forse. Forse la chiude. Che campione. Ma che campione questo ragazzo. Ma che campione, oh. Sta diventando un fenomeno. Cosa fa? Cos'è sta roba? Vabbè io Mi taccio, mi taccio, basta Non dico più niente Ma veramente Ma veramente Che sfiga però raga Cioè veramente Ma che sfiga Ma che sfiga tremenda Vabbè Cross lungo? Ci siamo? Col bug Il cross lungo? 9.1 di voto intanto Non perdi ma bello sto cross Molto bello Interessante Ma mi avrebbero rubata la palla Che stanno aspettando? No scusatemi eh No Ma non è regolare Ma non è regolare Ma scusatemi Ho perso palla Ok Ma non è che ha dato il contropiede eh Non ha dato il cont... Beh che c... Ma non si dovrebbe in teoria Questo è bello Cioè io veramente Ma la cosa buffa è che Sul 2-0 faccio Abbiamo chiusa forse Eh Cazzo proprio Vaffan bagno Vaffan bagno Eletronic Arts Mannaggia voi Un gol che manco doveva esistere Poi in realtà eh Non doveva esistere Perché in teoria Quei gol lì Non ci doveva essere Perché doveva esserci La palla persa Da parte mia Ok Niente Oppure Ci doveva essere Davi il contropiede Ma non hai dato il contropiede Di conseguenza Non ci doveva essere Scarsi risultati Vabbè Stai col mister Stai col mister Stiamo col mister Poverino Un po' mi dispiace E... Ma siamo quinti 18 punti Eh La prima sta 26 E sempre 8 punti di distacco O prima era 10 No era sempre 8 Secondo me Va bene Ci facciamo l'ultima Contro questi Intanto arriviamo Siamo a 59 Molto bene Diciamo che stiamo andando Discretamente Poi ovviamente Più andiamo avanti Più sarà difficile Crescere Molto difficile Siamo contro i terzi In classifica Potremmo superarli Non voglio dire niente Ma potremmo superarli Attenzione Che potremmo fare Il miracolo Ci vorrà veramente Un miracolo Tra l'altro Cioè veramente Bella barba Bella barba Eh va bene Andiamo Atmosfera fantastica Come vedete Sulle tribune Atmosfera fantastica Tifosi caldi Emozioni di questo match Eh Si chiama Questo Sena in Sena in Boh Si parte bene Proprio No 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 Mi oppongo No No L'ho fatto fallo No Non l'ha fischiato Ok Meglio così No Dove va Dove va Dove va Cosa fanno Ma staccati da lì Gioca la palla dietro Io Io non riesco a difendere Mai non riesco a difendere Su questo gioco In generale Eh vabbè La posizione Dell'odicia Adesso Vabbè Che vabbè Però mi pare Un po' troppo Onestamente Ma era Era in avanti La palla In teoria Jerry No No Ma cos'è Cos'è Ma porca miseria Oh Oh Buona la palla Eh però Ma che Calcio di posizione Da qui però È intrigante Io non so tirarli Devo dire la verità Quindi sarà molto complesso Però magari Un miracolo Può sempre accadere No Beh 35 Direi che Pure i coccodrillo Fanno questi Proviamoci Ti agi Cos'è sta roba La La presa Un po' Il La La barriera Se no È grave Oh Ma che è A parte che Dovera Il difensore Non si sa Tu non passi Mi dispiace Ma non passi Che Cavolo Bravissimo Contropiede Non c'è Contropiede No Non vi va più Vabbè Vale solo Per gli altri Che è successo Io non capisco A volte Veramente Fa delle cose Che non ha senso Passaggi 1 Ha fatto un passaggio In tutta la partita Vabbè dai Buona Buonissimo No Comunque Oggi Non ci è andato Neanche Un'occasione Per bene Veramente Cioè Che schifo Di partita Vabbè Vabbè raga Non è andata Benissimo Questo episodio Un po' Un po' Così Tra Altri e bassi Però Però Si continua A crescere Quanto meno Poi D'altronde Non posso fare I miracoli Non posso fare I miracoli Onestamente Ormai Si arriva A 60 Inizia a essere Allora Vediamo un po' Classifica Siamo ancora Siamo ancora Siamo ancora a settimi 18 punti 8 punti Da primo posto Non è successo niente Però con 3 punti Si va già a quarto posto È sempre quello di discorso È un campionato È un campionato Molto equilibrato In realtà È veramente Molto Molto Equilibrato Calendario Abbiamo Ancora Un sacco Di partite No Non è vero Non è vero Raga Assolutamente Ne abbiamo ancora 2 3 4 5 6 7 8 Ne abbiamo Pochissime Potremmo quasi Nel prossimo episodio Finire Questa Stagione Perché poi dopo C'è marzo Maggio Tutto vuoto Dopo vediamo Che succede Eh si Nel prossimo episodio Finiamo la stagione Tanto dura un po' Con le partite Quindi Si è abbastanza Tranquilli Con i tempi Dai Facciamo così Facciamo così Io vi ringrazio molto A questo punto E ci becchiamo Al prossimo episodio Ciao ragazzi